Si chiama InfoCovid lo sportello informativo e di supporto per i cittadini del comune di Pesaro legato all'emergenza coronavirus. Un servizio importante per offrire ai pesaresi le risposte alle più concrete necessità, come quella di ottenere informazioni sui comportamenti da tenere, sulle norme da seguire, avere chiarimenti sui monitoraggi dei tamponi, sulla distribuzione delle mascherine, su come accedere ai bonus dedicati all'emergenza e tanto altro. Lo sportello in via Lombardia 2 all'interno della sede del gruppo di protezione civile di Pesaro sarà attivo da domani, mercoledì 4 novembre e rimarrà aperto al pubblico per tre giorni a settimana, il mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.00. Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al numero 0721 38 76 16 o inviando una mail a infocovid.pesero-gmail.com Devo dire innanzitutto che è un servizio che parte grazie alla volontà della protezione civile pesarese comunale e l'associazione genitori volontari. Francesca Matacena ci ha proposto come amministrazione di istituire questo sportello. Visto come aveva funzionato il lavoro dei volontari della protezione civile durante la pandemia primaverile, di marzo-aprile siamo a disposizione della cittadinanza di chiedere in situazioni di maggior difficoltà anche per la spesa, per il giro in farmacia. Tutte quelle piccole attività che magari una persona anziana che deve rimanere dentro casa e non ha la disponibilità di amici, parenti o conoscenti ha una persona o un numero di telefono a cui rivolgersi per provare a risolvere quelle che sono le difficoltà del quotidiano. La protezione civile comunale sono tutti e totalmente volontari, non hanno rimborsi, non hanno niente, hanno solamente una gran voglia di dare una mano. Speriamo che serva almeno possibile, io lo dico sempre, però sappiate che se qualcuno ha bisogno ci siamo.